Di Ebels diceva, quando sento parlare di cultura metto mano alla pistola, ora non è più quel tempo, quell'epoca per fortuna, ma quello che sembra condizionare l'azione di governo da parte dell'attuale maggioranza parlamentare, sembra proprio essere un'analoga concezione, l'idea di vedere nella cultura come un nemico, come qualcosa di avverso e allora più che mettere mano alla pistola si tagliano le risorse, si creano quelle condizioni perché la cultura non possa progredire, non possa diffondersi, non possa essere diffusa e amata come in verità dovrebbe. Di qui i tagli che sono stati fatti all'istruzione, all'università, alla ricerca e anche a tutto il mondo della produzione culturale, ci sono stati tagli al FUS, poi rintegrati e proprio l'idea che la cultura debba essere effettivamente vista come un qualcosa, l'ha detto anche Tremonti, di cultura non si mangia e allora a questo punto sono delle spese inutili, delle risorse che è meglio utilizzarla per altri fini. Questo per noi è inaccettabile come scrittori, come intellettuali, come uomini di cultura. Per sostenere le ragioni di chi invece vede nel mondo della cultura, nella cultura stessa, una risorsa inesauribile è il nostro futuro che è in ballo, il futuro delle prossime generazioni dei nostri figli. Questo è un paese che nell'arco dei secoli ha prodotto cultura, arte ed è conosciuta nel mondo per questo. E allora l'idea di lanciare un appello che è stato sostenuto da premi Nobel come Dario Fo, come scrittori, Umberto Eco, Dacia Maraini, Lidia Ravera, Antonio Tabucchi. L'idea è quella di dire no, di reagire, promuovendo e organizzando gli stati generali della conoscenza. È ovvio che in questo momento la cosa più importante è unire le lotte del mondo della scuola, dell'università, della ricerca con quella della produzione artistica e culturale. Quindi la scuola, il cinema, il teatro, la danza insieme per combattere quest'idea che con la cultura non si mangia.